Amici siamo a Crispiano, il carnevale estivo naturalmente, amici del By Night, Alfonso Zambrano By Night, a Crispiano in provincia di Taranto, una serata strabiliante, piena di sluce, di sensazioni, di umori, noi ve li raccontiamo tutti. Sono rimasto sulle penne, sulle penne non sei gialle, ma è pure il balbuzien, il cagaglio va, 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 è cocorito, cocorito, una scilla di lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cosa c'hai in mano là? Io ho un campanaccio e rappresentiamo una mandria in transumanza, siamo della Proloco di Tricarico. Tricarico, conosciamo bene Tricarico, mi puoi fermare un attimo con questo campanaccio che non si capisce niente. Noi siamo della Proloco di Tricarico, il nostro carnevale rappresenta una mandria in transumanza, è formata pertanto dai capimassari, dai vaccari e da mucche e tori. Io rappresento la mucca più anziana, cioè quella che apre la strada a cui seguono tutte le altre mucche e tori. È il campanaccio più grande, è il campanaccio che detta i ritmi, è un carnevale antichissimo che ripetiamo, noi lo iniziamo il 17 gennaio di ogni anno. Quest'anno abbiamo fatto il primo raduno delle maschere antropologiche il 3 marzo a Tricarico e speriamo di ripeterlo l'anno prossimo. Oramai è un progetto che va avanti da parecchi anni, infatti nel 1998 siamo entrati a far parte della FEC, la Federazione Europea Città del Carnevale, e andiamo a rappresentare l'Italia in giro per il mondo. L'appuntamento è per il 17 gennaio di ogni anno, giorno di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, e noi essendo un animale, una mucca e un toro, chiediamo a lui l'indice di benevolenza affinché la fertilità in quell'anno sia molto sviluppata. Tanta fertilità allora, tanta fertilità a tutti e speriamo che in questo contesto economico ne possano un po' giovare un po' tutti. Bravo, in bocca al lupo, tanti auguri! Grazie, grazie, buona sera! Al posto! Al posto! Al posto! Mi vedi? Mi vedi o mi senti? Di dove siete voi? Taranto, Taranto! Taranto! Evviva Taranto con tutti i tarantini al Carnevale di Cristiano, estivo, versione notturna, versione by night. Ma quanti siete? Siamo 11 e ti dico, tutti i professionisti, ingegnere, il medico di fronte, passione Tarantina. Fammi vedere il dottore, va! Dottore, buonasera! Aspetto, che si... Grazie! Ciao caro! Dottore, come stai? Stai bene? Buonasera! Buonasera! Tutte le occasioni, anche questa divertentissima del Carnevale di Cristiano. In bocca al lupo, buon divertimento! Grazie a voi, grazie a voi e agli amici. Qui è uno sballo, ci si diverte da morire! Piccolare! Eeeh, che belle donne che ci sono, mamma mia! Ma voi siete di Taranto? Sì! E quante siete? 11! 11 ragazze! 12 ragazze! E tu chi sei, praticamente? Fizia! Fizia! E chi rappresenti? Oddio! Vabbè, me lo dici l'anno prossimo! Ciao! Ciao! C'è un personaggio che ormai sta su Sky, lo vedete? Sto qua! Sto qua! Buonasera! Buonasera! Guardatelo un attimo, chi chi è? Guardatelo un attimo! Guardatelo un attimo! Buonasera a tutti! Allora, sul canale 12, digitale terrestre, tele-radio, E' il nuovo Pai Night! Allora, stasera siamo voluti venire qui a Crispiano, a San Simone, a complimentarci con voi per questa organizzazione bellissima che rende viva la parte estiva del nostro territorio. Allora, tu sei uno tra i promotori di questa iniziativa, parliamone velocemente. Un carnevale che è nato per diventare la Venezia del Sud. Ci siamo riusciti perché noi abbiamo puntato sulla manifattura dei costumi e credo che poi è diventato veramente il carnevale per eccellenza. Non usiamo carta pesta, ma usiamo il buon senso e la creatività. Questo è il carnevale più interessante del Sud in estate e credo, e tu lo sai che sei esperto, insomma, che abbiamo fatto centro. Assolutamente sì, complimenti, non a caso io sono venuto qui a complimentarmi di persona con voi, a dirvi che il nuovo Pai Night parte su Telerama prossimamente, quindi voi ci sarete tra le prime clip e siamo orgogliosi di avervi incontrato per la prima volta. Poi magari vedremo per i prossimi anni di organizzare qualche cosa di più mirato. Scusami, ma tu come fai a diventare sempre più giovani? C'hai una bella età, ma intanto diventi sempre più giovani? Silenzio, non si dice. Allora, complimenti a voi, seguite il Pai Night sul canale 12 di Telerama, naturalmente tante sorprese, nuova versione, nuova animosità, nuova allegria, e sicuramente il carnevale di Crispiano, quello estivo, ma anche quello che voi farete a seguire, sarà l'occasione di incontrare bella gente e gente che davvero ha coraggio, forza per promuovere il territorio. Complimenti a voi. Grazie, grazie per il tuo saper fare, perché ormai tu di televisione te ne intenti in altissimo livello, sei diventato un riferimento anche per la nostra provincia, sei schizzato nelle televisioni. Vabbè, siamo schizzati, eravamo schizzati già da prima. Adesso hai peggiorato la situazione. Assolutamente sì. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao a tutti, ciao by night. Grazie, sei gentilissimo, grazie. Volete vedere? State vedendo? Avete visto? Volete vedere? State vedendo? Che cosa state vedendo? Avete capito niente? Non avete capito niente. E adesso vi facciamo capire tutto? Sentite? O vedete? O comunque, ovunque voi siate? Adesso venite con me. Andiamo a farci un giro sulla Mongolfiera. Amici di Alfonso Zambrano by night, che sono sempre io, adesso vi facciamo fare un giro nella Mongolfiera e chissà dove arriveremo, secondo me non arriveremo. In ogni caso, se dovessimo soccombere, meglio per voi. Non so chi lo farà al posto mio, ma qualcuno lo troverete. Beh, andiamo sulla Mongolfiera, va? Andiamo, 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 andiamo. Allora, andiamo. Come avete fatto? Vai bene. Vieni a fare peso eh! E adesso possiamo salire in vetta al mondo, amici di Alfonso Zambrano by night, non ci credevate? E adesso provate a crederci. Andiamo in Montgolfiera, andiamo in Montgolfiera, sempre più in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, aiuto, 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 non vi preoccupate c'è il vento. Amici del By Night, qui la situazione è molto critica, va a vento e soprattutto in Montgolfiera, continuate a seguirci, seguiteci, ovunque voi state, in qualunque parte della terra, dell'universo scientifico, mi sta girando tutto, non potete credere che panorama, che spettacolo bellissimo, ma mi vedi, mi vedi o mi senti? Ovunque voi siate, rallegratevi, il By Night è tornato a voi, e non andate mai più via, ciao By Night, ciao By Night! Mi vedi? Mi vedi? Mi vedi? Io sento un calore dietro la sp... Sto abbronzando tutto quanto, ciao By Night! Ciao By Night! Ciao! Buttatevi, buttate, 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 buttate! Roba nuova, roba nuova, roba nuova! Buon anno! Beh, io quasi quasi la lascio parcheggiata qui. Vado, stiamo per scendere, per fare la fase della discesa, non so se mi vedete, ma vi sentite? Siamo sulla Mongolfiera, in ogni caso, cvflycommunication.com, così vi fate un bel giro nella Mongolfiera, e non so se mi spiego. Ah, vieni, vieni, vieni a far vedere come siamo qui in alto, eccoci, stiamo per fare la discesa, abbiamo fatto la salita e adesso facciamo la discesa. Amici del By Night, con questo genere di comunicazione abbiamo voluto dirvi che ci stiamo divertendo. Voi vi state divertendo? Beh, speriamo di sì, va? Ma mi vedi? Mi vedi? Mi vedi? Sono io. Ah, siamo atterrati, ce l'abbiamo fatta, amici del By Night, sempre più in alto, sempre più in alto, sempre, sempre più in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, by night, sempre più in alto, by night, by night, by night, by night, by night, by night, by night. Nicola salutiamo gli amici del By Night per fare un giro su questa mongolfiera, bellissima, allora dove veniamo? Allora potete contattarmi nel sito cwflycommunication.com e poi se volete farvi un bel giro venite a Castel del Monte oppure a San Giovanni Rotondo, dove volete, poi ci mettiamo d'accordo. Allora scrivete sul By Night e poi dopo comuniciamo a noi con lui, venite sulla pagina facebook della trasmissione che si chiama Alfonso Zambrano By Night, cliccate mi piace e poi il nostro amico vi porterà in giro anche per il mondo va? Va beh! Bentornato By Night! Yeah! Yeah! Se l'ho fatta, se l'ho fatta, sempre più in alto, ragazzi più in alto. Ma si sente? Ma mi senti? Ma mi senti? Mi senti? Si sente? Amici del By Night! Alfonso Zambrano By Night! Dal Carnevale del Brigantino a Crispiano, ci troviamo nella contrada San Simone di Crispiano in provincia di Taranto, abbiamo visto un po' di sapori, no magari i sapori li abbiamo sentiti, però abbiamo visto un po' di allegria, abbiamo fatto il giro nella mongolfiera e quant'altro. Amici, il By Night continua e voi continuate a seguirci, adesso e per sempre!